situazione meteo di oggi martedì 4 settembre su palermo e provincia cielo poco nuvoloso o velato i venti prevalentemente moderati soffieranno da ovest sud ovest con intensità di 20 chilometri orari possibili raffiche fino a 22 chilometri orari temperature comprese tra 21 e 30 gradi per domani prevista diffusa nuvolosità vento da ovest sud ovest con intensità di 29 chilometri orari le temperature 21 gradi a minima 30 alla massima